Il flusso di visitatori nel fine settimana della 48esima mostra nazionale del cavallo di Città di Castello è stato di quelli straordinari. Il bilancio degli ingressi fa sapere l'organizzazione è stato nettamente superiore all'anno scorso nella giornata di sabato e c'è da considerare che al numero dei tagliandi staccati devono aggiungersi gli under 12, per la prima volta per loro l'ingresso era gratuito. I code di visitatori all'ingresso sono stati registrati fin dal primo mattino della domenica e propri partecipanti fa sapere l'organizzazione hanno manifestato apprezzamento per le scelte compiute nella predisposizione del programma e nel maquillage completamente rivisto dagli spazi esterni dei saloni. Il primo salone nazionale del turismo equestre con l'inedita vetrina ai soggiorni e cavalli in giro per l'Italia e il salone delle attrezzature della promozione ippica con il meglio della produzione tecnica di settore sono risultati davvero attraenti per il pubblico. Irresistibile anche il battesimo della sella dell'assi sport equestri che nelle due giornate ha visto circa 200 bambini vivere l'esperienza del primo incontro con il cavallo. Il gran gala Night of the Stars poi ha fatto registrare il tutto esaurito con i 2000 posti a sedere riempiti da un pubblico entusiasta e trepidante assiepato anche in piedi negli spazi circostanti di tribune. Guati e scroscianti applausi hanno accompagnato agli straordinari numeri dello spettacolo realizzato con la supervisione del presidente della mostra Bizzirri, i testi e la voce narrante di Nico Belloni. Davvero contagiosa la partecipazione con cui gli spettatori hanno seguito i 16 numeri dello show sospinta dalle esibizioni che hanno alternato acrobazze spericolate e momenti di pura arte anche grazie al contributo del danzificio all'officina della danza di Sansepolcro con l'unicità della presenza contemporanea di tre detentori del Guinness World Record. Tra le premiazioni che hanno caratterizzato il programma della giornata domenicale c'è stata anche quella del memorial dedicato a Fabrizio Bertini promosso dall'Anica nell'ambito del campionato nazionale del cavallo puro sangue arabo per ricordare l'allevatore scomparso l'anno scorso alla mostra Mente Sessi Biva in campo. Tra i protagonisti più attessi senz'altro via Latte alla cavallina albina nata da Sisi nella scuderia di Sergio Carfagna con il pubblico che si è immediatamente concentrato nel paddock e collocato all'ingresso lo stesso che tre anni fa fu di Varenne. Tantissimi bambini ma anche gli adulti che hanno voluto vedere da vicino l'animale unico in Europa è scattare foto ricordo di un'autentica rarità. Anche il presidente della mostra Bizziri ha voluto incontrare personalmente via Latte insieme al presidente della provincia Guasticchi e il giornalista Giorgio Galvani autori del libro La Scuderia dei Miracoli.